Siamo con il tecnico Mussetti del Tridinum, un episodio vi ha condannato, prova comunque Gagliardo della squadra. Ma sì, abbiamo fatto abbastanza bene, dovevamo reggire le sconfitte con l'Orco, diciamo che in campo siamo andati abbastanza bene, decisi, quello che potevamo era l'abbiamo fatto, poi siamo stati condannati in un episodio che ci siamo autocreati, però sono cose che nel calcio capitano, niente da dire, i ragazzi avevamo anche parecchie assenze, quindi i ragazzi hanno però fatto tutto quello che potevano, non posso dire altro.